Castellammare quest'anno è un Natale con delle manifestazioni particolari. Che genere di manifestazioni? Saranno nel centro storico Castellammare, nel corso basso pedonale. Saranno presenti 30 casette con più di 40 persone, oggettistica di Natale, bijoux, creme, biscotti, tutto ciò che comunque può riguardare il Natale. La Luna Park, ci sarà la casa di Babbo Natale, ci saranno le mostre fotografiche, ci saranno le mostre delle bambole, la mostra dei presepi. Sarà un evento vasto e poi abbiamo anche coinvolto i commercianti a riempire comunque le serate di eventi, di sagre, per attirare più gente possibile dai bimbi agli adulti. Dire sì, sto facendo qualcosa per Castellammare, l'hai notato? Sì, sì, specialmente i commercianti, ma anche tutte le associazioni che sono innumerevoli a Castellammare stanno cercando di rendere Castellammare, oltre all'estate, anche d'inverno abbastanza viva. Ho voluto valorizzare intanto Castellammare perché è una cittadina speciale per me, con un'area natalizia che si può creare fantastica. Rendere Castellammare più viva possibile, addobbando. Sì, hanno addobbato gli alberelli, stanno montando un albero grandissimo. Chi ci guarda per esempio da Enna, da Caltanissetta, le date? Partirà giorno 8, dalle 18 in poi. La manifestazione di Castellammare è Natale, si dilungherà fino al 6 gennaio, però noi con le casette, le casette, le casette, le casette, le casette di Babbo Natale, tutte le altre piccole cose, finiranno giorno 23. Grazie al Vice Sindaco Salvo Bologna abbiamo trovato queste casette che sono davvero graziose. Saranno piene, come dicevo, di creazioni natalizie, ma saranno, intanto saranno 30. Quindi abbiamo 30 casette con molti più artigiani che stanno dentro, soprattutto giovani, nel territorio siciliano, perché noi abbiamo tantissima creatività e tantissima voglia di lavorare con le nostre creazioni. Ci sarà il torneo Costa Gaia, che è un evento sportivo importante, il paese sarà animato. Insomma, arriviamo grossomodo a metà gennaio. I commercianti stessi del centro storico, nello spirito di collaborazione che noi abbiamo invocato da sempre, si sono messi insieme per fare loro un progetto di animazione del centro storico, in collaborazione con noi, che poi il noi sarebbe l'assessore Bologna. Sarà il tipico Natale siciliano, non quello che è pensato del nord, sarà il Natale in Sicilia. Venite a Castellammare, c'è possibilità di passare un bel pomeriggio, una bella serata, ma questo fascino invernale, insomma, lo presentiamo ai concittadini, lo presentiamo alle persone che vogliono venire a Castellammare nel periodo Natalizie.